Buonasera a tutti. Questa sera andremo a vedere, a scoprire il tema delle porte aperte di ottobre 2023 della Marazzato Collezione. Stiamo parlando. Vedremo diversi articoli molto importanti, molto interessanti, molto belli. Però altrettanto interessante è questo Depliant che ho preso da loro e di cui vi voglio parlare, perché è qualcosa che interessa non solo il Piemonte, ma anche tutta l'Italia. Quindi state con me, adesso vedremo insieme perché. Allora, Fondazione Marazzato, vedete questo è quello che è l'argomento principale di cui andremo a parlare e con tutti i vari aspetti annessi e connessi. È un end del terzo settore, quindi ETS, nasce nel 2023, quindi è neonata, con lo scopo di perseguire finalità di interesse generale, in particolare nell'ambito della responsabilità sociale e ambientale, nella cultura di impresa e della collezione di mezzi storici. Vediamo qui dall'alto, presso la sede della Fondazione Marazzato ETS è possibile organizzare eventi, quindi eventi corporate, eventi culturali, grandi e piccoli meeting, convegni, quelli che si svolgono comunque ogni volta in base al tema specifico nelle porte aperte, esposizione temporanea, lancio di nuovi prodotti, noleggio, aree, eventi per eventi. Visite guidate, quindi visite guidate con i vari volontari che ci descrivono tutti i mezzi che ci sono lì all'interno di Capannonio, virtual reality experience che io consiglio perché l'ho fatta ed è bellissima, e bus tour, cioè c'è un loro autobus, ovviamente storico, vi fanno fare un giro lì all'interno della proprietà, bello. Poi salva un camion, salva una storia, che crediamo che ogni mezzo sia veicolo di cultura. Attraverso la fondazione è possibile adottare un mezzo storico, quindi state attenti a quello che vi dico perché è molto interessante. Se un'azienda storica scopri come valorizzare il tuo brand, quindi la loro settantennale, mi pare che si dica così, esperienza, vi dà qualche consiglio, insomma qualche dritta, dona un camion, gli daremo nuova vita perché loro li restaurano tutti, infatti quelli che sono all'interno dei Capannoni sono tutti mezzi restaurati. Hai problemi di spazio? Lascia il tuo mezzo e lo costruiremo per te, quindi anche loro si offrono, no? Per questo dire, i tuoi mezzi. Noleggio mezzi per cinema, eventi e televisione. Ecco perché dicevo io, noi in tutta Italia, che magari, non so, devono girare uno spot pubblicitario, un film, una serie tv che oggi vanno tanto di moda, non so, in Salento, Castiglia Amalfitana, in Sicilia. Prendo queste tre regioni, insomma, queste tre aree dell'Italia del sud, appunto perché sono molto distante dal Piemonte, però vedete, affittano mezzi per dare valore, no? A quello che potrebbe essere una pubblicità, uno spot pubblicitario o anche un film stesso, ecco. Per shooting fotografici e allestimento vetrine, quindi di tutto, non manca nullo. Poi come sostenerci? Questa è una cosa che dovete tenere a mente perché è veramente molto, molto importante. Devolvi 5 per 1000 al nostro codice fiscale 94044420027. Vuoi fare una donazione finanziaria? Vuoi fare volontariato? Quindi danno anche questa possibilità. Scopri come sostenere la fondazione e i nostri progetti www.gruppomarazzato.com slash fondazione trattino marazzano marazzato slash. Vi ricordo l'indirizzo fondazione marazzato ATS, Stato provinciale 31 al chilometro 11 Stroppiana, Vercelli. Telefono 0161320311. Informazioni varie fondazione chiocciola gruppomarazzato.com. Anche su Facebook ovviamente. Marazzato mezzi storici. Quindi prendete note di tutto quello che vi ho detto perché veramente ne vale la pena insomma per tutto quello che propone Marazzato. Comunque entriamo nel clou del video. Vi ricordo che siamo, vedete, porte aperte di ottobre 2023, modellismo e mostra scambio. Andiamo a vedere nel particolare che cosa c'è. Ecco, questo appena entriamo ci sono i loro, alcuni dei loro mezzi che ci danno il benvenuto. Questi mezzi li abbiamo visti, li abbiamo visti, li abbiamo dato qualche cenno nel video mezzi esclusivi. Questo qua è il mezzo che vi sto indicando, vi ricordo che è un Alfa Romeo, un camion. Quindi insomma c'è veramente tanto da vedere. Vi ricordo l'aria bimbi, quindi famiglie. Dice, ma dove lasciamo i bambini? Lì ci sono, vedete, l'aria bimbi, ci sono due ruote, tre ruote, quattro ruote, insomma questi piccoli mezzi, no? Piccolini, no? Per fare, insomma, svagare un attimino i bambini. Quindi non preoccupatevi di portare con voi i vostri figli o nipotini. Ecco, questa vedete è un'ampia veduta della parte esterna dei capannoni dove vedete ci sono editori ambulanti, credo che siano, poi non so se hanno negozi, comunque. Vedete la loro merce in bell'esposizione. Andiamo a vedere ora nello specifico qualche cosa. Vedete, questo è un altro capannone esterno dove di solito viene adibito con, all'interno ci sono alcuni mezzi, ho dei clienti o anche loro nei vari video precedenti. Troverete delle auto, anche un piccolo mezzo loro, un piccolo camion, insomma. Vedete, qui ci sono, ho fatto un'ampia veduta, adesso andiamo a vedere meglio nello specifico. Eccolo qua, le cassette, no? Piene, piene, stracolme di tutto, di tutto, c'è di tutto lì. Guardate, queste sono le cassette, quelle che usano per la frutta, mi pare, queste colorate, che sono piene. Infatti ho fatto, vedete, anche la foto. Ecco, io ho fatto la foto anche, vedete, in una cassetta ci sono anche questi, queste figure, figurini, diciamo così. E questo in particolare è per chi non l'avessi riconosciuto, o riconosciuta, in questo caso. Questa è la Pantera rosa. Io, mio fratello Marco, quello più grande di me, che era, adesso non lo so, era un appassionato, innamorato, fra virgolette, della Pantera rosa. Era la sua preferita, era. Infatti ne ho una a casa, un peluche della Pantera rosa, che saluto. Ciao Marco. Questa qui, per esempio, è classica, quella che o si cuce o si stira, no? Col ferro da stiro caldo, attiva la colla che sta sotto e si attacca agli indumenti, quindi vedete, e poi c'è tanto altro. Quindi c'erano anche queste cose qui, no? Queste piccole stranezze, diciamo così. Ecco, questa, invece, ho fatto la foto a questa bici, perché mi ha fatto venire un'atala, vedete? Mi ha fatto venire in mente un'atala cross, mi pare che sia questa. Mi ha fatto venire in mente quando ero ragazzetto, 8 anni, 10 anni, i miei me ne regalarono una. Ce n'era una che aveva anche il cambio sul telaio, una delle prime. Io però, se non ricordo male, avevo la targa Florio, targa Florio che era quella voluta, finanziata da Vincenzo Florio, palermitano, da Sicilia, aveva una gara, no? Che si disputava in Sicilia. La più antica, perché la più antica gara mai disputata, perché nacque nel 1906 e aveva questa bici nera con la scritta targa Florio in onore, appunto, di questa gara automobilistica, appunto, di Vincenzo Florio, questo imprenditore palermitano, che ebbe questa brillante idea di far correre i propri mezzi, no? E poi per le autovetture da corsa, nelle strade cittadine, anche se erano un po' pericolose, eccetera. Comunque, noi ne entriamo nel dettaglio. Però ricordo avevo questa bici, così un po' strana, ecco. Poi, più avanti, poi sono andate le mountain bike, eccetera. Ecco, vedete, qui ci sono altri venditori, con le proprie merce, vedete quante cassette. Io, non so, vedo i chiavi, e poi, non so, i cacciaviti, quindi utensilieria varia. Poi vedete, non so, ci sono le luci, quelle lì, quelli che hanno la calamita sotto, no? Che si attaccano, tipo, alla macchina, no? Quella calamita viene attaccata per farla stare ferma. Vedete, poi vedete i cannocchiali, c'era veramente di tutto, di tutto. Andiamo a vedere ancora qualcosa. Ecco, vi ricordo che all'interno dei capannoni, i mezzi sono sempre lì, fermi, nessuno li tocca. Vi ricordo, questa è la lambretta. Andate a vedere i video precedenti, perché è curiosa come è nata sia la lambretta anche il nome di lambretta. Comunque, quando accanto vedete la vespa. A proposito, voglio farvi vedere, dove, lì, in mezzo a tutta questa cianfrusaglia, io direi, anche se sono tutti pezzi importanti, ovviamente, di chi li vende. Nel video precedente, quando ho parlato della vespa, vi ricordo che ho acquistato, ho trovato questo pezzo qui, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Questa, vedete, è una lampada tascabile, con scritto Vespa. Poi ho trovato, è un euro, è tutto un euro, ho trovato questo portachiavi qui, qualcuno di voi se lo ricorderà, vedete, esiste ancora, il duplo, il cioccolato, vedete, il portachiavi della duplo, bellissimo. Poi, vi voglio far vedere, ho trovato anche questo portachiavi, sempre un euro, vedete, capanna Gniffetti Barallo, siamo proprio al confine nord del Piemonte, 3647, dove c'è il santuario, poi ne parleremo. Vedete, qui c'è una scritta in latino, do, dominitamu, tamis, walis, sidida, dominio delle stelle, qualcosa del genere, se lo ricordo bene. E poi, per ultimo, ho lasciato questo portachiavi, l'ho trovato molto interessante, l'ho preso per un motivo. Allora, questa è la Certosa di Firenze, che non ha nulla a che vedere col Piemonte, ovviamente, ma l'ho preso perché, vedete, San Cristoforo, San Cristoforo che è il protettore dei viandandi, dei trasportatori, non so, camionisti, barcaioli, questa gente qui, insomma, ecco, queste persone qui, questi gruppi qui, quindi l'ho preso appunto per San Cristoforo, sono uno, insomma, che viaggia tantissimo, no, quando vado in giro per fare le foto, quindi San Cristoforo, no, è il nostro, fra virgolette, protettore. Andiamo avanti, andiamo a vedere ancora qualcosa, vedete, qui ci sono tre motociclette, molto interessanti, perché? Che queste motociclette qui, vedete, sono della MV Agusta, quella famosissima marca, appunto, di motociclette, con la, una delle quali ha usato, che poi per la maggior parte dei suoi trionfi, il nostro, il nostro, ne ho parlato abbondantemente nei video precedenti, il nostro è lombardo, ma è italiano, Giacomo Agostini, il pluricampione del mondo, quindici volte campioni del mondo, ancora imbattuto, ed è italiano, è italiano, ok? Lui ha corso con diverse, diverse motociclette, la MV Agusta è quello che gli ha dato un po' più soddisfazioni. E poi, vedete, ci sono, vedete, altri, altri venditori, con tutti gli altri pezzi, qui vedo un volano, vedete, qui ci sono le corone, dei vari motociclette, e poi abbiamo, vedete, dell'orto carburatori, qui non sono male a trombetti, quindi li troverete di tutto, veramente di tutto, poi dell'orto e carburatori, null'altro. Andiamo a vedere, ecco, vedete, poi altri venditori, qui vedete i fari, le frecce, poi utensileria varia, candele, di tutto, vedete qui sopra, il manubrio, il volante, insomma, no? Qui vedete anche appesi il volante, questa è tutta minuteria, viti, tutte cose che vedete, le molle degli ammortizzatori, e tutte cose che magari si fa fatica a trovare, che magari è una macchina vecchiotta, adesso si dice vintage, e vedete, qui c'era la possibilità di trovare quelle cose che magari si fa fatica a trovare in giro, e poi ho fatto una foto a questa, a questa parte qui del capannone, che è molto, ma molto importante per me, e ci sono alcune motociclette, però ve ne voglio parlare nel prossimo video, perché vi porterò indietro di di 30 anni almeno, eh, di 30 anni almeno, io sono del 76, quindi, eh, e quando ho 14 anni, la prima moto, vi faccio vedere che cosa avevo, anche se era una seconda moto, ma poi vi spiegherò. Bene, io intanto spero di avervi regalato delle, delle emozioni, vi ricordo la fondazione Marazzato, eh, importante fondazione, e ci vediamo al prossimo video, e vi saluto con un abbraccio affettuoso. Ciao!